Anche nei paesi del Molise la solidarietà non ha tempo, diverse iniziative a sostegno del popolo ucraino. Siamo a San Giacomo degli Schiavoni, la comunità ha risposto presente. Il comune ha predisposto una raccolta di beni di prima necessità, diversi giorni di impegno che ripaga. La consegna di quintali di materiale da parte dei volontari della misericordia, direttamente ai rifugiati di guerra al confine polacco. San Giacomo degli Schiavoni ha risposto ancora una volta alla grande con uno spirito di solidarietà davvero fenomenale verso le popolazioni che sono state colpite dal conflitto bellico in Ucraina. Come vedete la stanza è piena di beni di prima necessità, beni alimentari, farmaci, prodotti per l'igiene personale, prodotti di cancelleria, prodotti che grazie alla misericordia di Termoli, sezione di San Giacomo, verranno poi trasportati ai confini dove i rifugiati si stanno ammassando, specialmente in Polonia e in Romania. La priorità è aiutare chi soffre. Anche la parrocchia con Don Alessandro Sticca si è adoperata in una seconda iniziativa collaborando con l'associazione Apolonia. Stiamo raccogliendo tutti i tipi di generi di prima necessità medicinali, cibo, vestiti per aiutare il popolo ucraino. E quindi ho mandato manifestini, avvisi, posto su tutti i gruppi social della parrocchia e si sono mobilitati in tanti.